Assessore c'è finalmente la data, domenica 25 febbraio alle ore 18 si inaugura la riqualificata Piazza Marcolini. Domenica 25 alle ore 18 vi aspettiamo tutti per l'inaugurazione di Piazza Marcolini, un luogo che torna alla città, una piazza d'arte. Ci sarà uno spettacolo appunto nel pomeriggio che illuminerà questo luogo di storia, di musica, ma anche di arte come bellezza perché ci saranno degli artisti che faranno un estemporaneo e che potrete tutti ammirare. Quindi vi attendiamo numerosi perché qua ogni volta che si riqualifica un luogo sono luoghi della città che vanno festeggiati tutti insieme.